Se la sono cavata bene le oltre 50 persone coinvolte nell'indagine degli immobili realizzati in zona agricola da Life e finiti nell'occhio del ciclone negli anni che vanno dal 2006 al 2010 e un secondo filone dal 2009 al 2012 perché considerati abusivi dalla magistratura tanto da essere stati a più riprese sequestrati con riscrizione nel registro degli indagati, dei tecnici e dei proprietari L'utienza era stata rinviata ad oggi come avevamo già riportato in una precedente edizione ed oggi è arrivata puntuale la sentenza sia pure non ancora depositata in sintesi in larga maggioranza si è conclusa con la prescrizione del reato una seconda parte con un non luogo a procedere per la non sussistenza del reato ed infine un'altra piccola parte finita con un rinvio a giudizio ma con molti capi di imputazione scomparsi dall'accusa Stamattina è arrivata finalmente la sentenza dunque prima della quale hanno relazionato gli avvocati Giovanni Di Caprio che ha portato in udienza degli elementi nuovi della Corte Costituzionale poi Parente, Ferrucci e Maiurano altri avvocati ovviamente hanno fatto parte della difesa come lo stesso Roberto Vitelli un sospiro di sollievo dunque per i tanti indagati dopo circa dieci anni di utienze da Alife è tutto Lorenzo Applauso per casertasera.it